Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo brevissimo video che sto registrando tipo alle 10 di sera, una roba del genere che faccio solo per dirvi, perché poi domani mi dimentico, sono assonnato perché mi sono appena svegliato che questo pomeriggio dalle 4 e mezza fino a non so esattamente quale orario ci sarà una live per festeggiare l'ultimo dell'anno, anche insieme siccome poi di sera andrò a festeggiare con la Goomba e nulla, volevo festeggiare un pochino anche con voi, quindi ci sarà una live di un'oretta e mezza barra due ore ci saranno degli ospiti speciali, ci sarà Trainer Tia, Amipon 79, Frost 26 e per ora questi tre sono quelli di cui sono sicuro, ma ci sarà sicuramente altra gente, o almeno lo spero detto ciò, questo video serviva solo a questo, mi raccomando partecipate in tanti, io ci terrei davvero tanto mi arriva l'antivirus sul computer, disattiviamo l'antivirus in live e nulla, video brevissimo, noi ci vediamo in live, oggi non usciranno video ma questo l'avevo già detto ci sarà semplicemente la live e nulla, noi ci becchiamo in live cioè non so come concluderli sti video qua perché fanno schifo